Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Grazie a tutti per quei messaggi di incoraggiamento di ieri. Non vi preoccupate che noi andremo avanti tranquillamente per la nostra strada come poi abbiamo sempre fatto. E infatti oggi vi porto un video eccezionale alla scoperta di un altro dei giovanissimi campioni emergenti. Nel video di oggi parleremo del 14enne a zero Rustam Rustamov che dieci giorni fa ha vinto il campionato europeo Under-14 con 8 punti su 9 giocando partite eccezionali sia di bianco che di nero. Alla fine del torneo pensate ha guadagnato 234 punti elo, credo sia un record mondiale di guadagno in un singolo torneo. Stiamo per guardare insieme una partita nella quale Rustamov affronta l'Akarocan con la variante preferita di Fischer e veramente sarà una partita nella quale aleggia dall'alto lo spirito di Bobby. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Joel e Maurizio, due nuovi abbonati alle mie video lezioni che trovate ormai lo sapete qui sul canale a soli 2,99€ al mese. Poi fatemi anche salutare e ringraziare Madspar un fedelissimo del canale che mi ha regalato un graditissimo SuperTanks. Guardatevi anche il video che ho postato ieri sul giocopiano perché è interessantissimo e adesso like a questo video e partiamo subito perché Rustamov di bianco apre la partita con E4. Emil Zander di nero che come vedete ha un punteggio e lo superiore al suo risponde con C6. La Karocan e allora il bianco la affronta con la variante di Bobby Fischer, arriva infatti cavallo in C3 quindi nulla spinta D4, D5 e arriva per forza cavallo in F3. Alfiere in G4 che inchioda il cavallo sulla donna con timazione più giocata, l'alfiere si attacca subito con H3. Alfiere per cavallo, la donna ricattura, il nero chiude il triangolo con E6. Allora, semplice sviluppo posizionale dell'alfiere in E2, alfiere in C5 e il bianco a rocca corto. Cavallo in D7 è la mossa più giocata e anche la favorita del computer. Questo cavallo, tra le varie cose, minaccia anche il salto in E5 che attacca la donna. E allora per questo motivo, di solito, il bianco cambia al centro oppure sposta la donna in G3. Invece Rustamov gioca la poco giocata, cavallo in A4, solo 4 partite rimaste in database. È una mossa non buonissima ma comunque giocabile. Cosa fa? Naturalmente attacca l'alfiere Camposcuro. Questa mossa però si porta con sé anche un difetto. Non protegge più, ho sbagliato la freccia, non protegge più il pedone in E4. E allora guardate il computer come si muoverebbe. Ci suggerisce giustamente di giocare la cattura di per E4, mai giocata, quindi novità teorica proposta dal computer. Per quale motivo? Perché il bianco è costretto a catturare di donna. Adesso sì che si sposta l'alfiere e quando arriverà cavallo in F6 lo sviluppo arriverà con tempo, praticamente equalizzando questa posizione. E invece Zander gioca come Svein, giocatore giovane fortissimo, al fiere in D4 è rimasta una sola partita, Gavrilescu, un altro giocatore forte contro Svein del 2021 finita in parità. E allora il bianco come in quella partita gioca a c3, al fiere sotto attacco si porta in F6 e arriva alla spinta D4. In quella partita Svein aveva giocato l'ottima donna in A5 e invece Zander in questa partita gioca a B5 e è la novità che rende la partita originale. Il cavallo naturalmente è costretto a portarsi in C5, cavallo per cavallo il pedone ricattura, cavallo in E7. Il nero vuole arroccare. Guardate però che cosa è successo. È successo che il cavallo si intromette tra donna ed alfiere, bloccando oltretutto la via di fuga dell'alfiere. E allora intanto arriva la spinta A4, un vero e proprio attacco alla struttura pedonale. Il nero è costretto a proteggere il pedone B4 con A6 e arriva alfiere in F4. Ecco l'idea, E5 praticamente senza la batteria, quindi con l'alfiere non più protetto dalla donna che non si può portare in G5. Praticamente E5 vince un pezzo e allora bisogna che il nero giochi cavallo in G6. E per D5, mossa migliore, pone grossissimi problemi al nero. Perché qui naturalmente non si può riprendere col pedone C, se no qui casca B5. E allora Zander è costretto a riprendere con il pedone E. Guardate che è successo. Si è aperta una linea di attacco centrale contro il re nero. E allora A per B5 è un'intermedia perfetta. Perché qui si continua a catturare. Costringe il nero a riprendere subito. A per B5 e arriva donna in E3 con scacco. Il cavallo torna indietro in E7. Dopo 17 mosse il computer dà più 3 per il bianco. Siamo arrivati al nostro quizzone. Guardate, c'è una grandissima tensione tra i pezzi sulla scacchiera. E allora cosa giochereste al posto del bianco? Mettete pure in pausa e da voi la parola. Ritorniamo a noi. Grandissimo Rustamov, che non solo gioca la mossa migliore, ma mi consente di dire una delle mie frasi preferite. Infatti il bianco gioca alfiere in C7 con l'alfiere in presa, ma l'alfiere attacca la donna, ma l'alfiere è intoccabile. Sarebbe una deviazione micidiale. Che naturalmente, guardate, se donna per alfiere, qui non si vincono soltanto le due torri, ma dopo che la torre cattura in A8 con scacco, questo è inchiodato, quindi non si può mettere davanti, dopo re in D7 arriva il matto in 2, alfiere in G4 con scacco. L'unica mossa è l'interferenza di cavallo. Alfiere che cattura il cavallo in F5, scacco matto. E allora la donna è costretta a spostarsi, ma a mantenere la protezione della torre, e quindi donna in G8. Arriva anche il secondo alfiere, alfiere in G4, ad attaccare la donna, di nuovo questo intoccabile, donna in B7. E allora è il momento di cambiare. Torre per torre in A8 con scacco. La donna ricattura, alfiere in E5. Altra grandissima mossa del bianco. Come mai il nero non cambierà lui e si farà indebolire la struttura pedonale sul lato di re? Perché dopo alfiere per alfiere in E5, la donna ricattura, attacca il pedone, il nero non può arroccare, se no perde il pezzo, il re rimarrà bloccato al centro, e se torre in G8, torre in E1 minaccia di matto, costringe la donna a tornare in D8, donna in D6, e qui si può abbandonare. Guardate che succede. Il re non si può spostare, se no, donna per donna, scacco matto. Il cavallo è inchiodato. Se donna per donna, il pedone ricatturando, attacca un pezzo inchiodato sul re, vince il pezzo. E qui che succede? Succede che non si può far niente, sta per arrivare. Donna che cattura in C6 con scacco, e poi è disastro totale. E allora, dopo alfiere in E5, cosa fa il nero? Gioca H5, gli sembra una mossa con tempo, perché attacca l'alfiere, ma arriva alfiere per alfiere con la minaccia di scacco matto. E allora il nero deve ricatturare col pedone G in F6. Lascia di nuovo l'alfiere in presa perché torre in E1 è una nuova minaccia di matto. La donna si porta in D8, alfiere in F5. Re in F8, schioda il cavallo, donna in F4, protegge l'alfiere, arriva torre in G8, e qui, guardate, ci sarebbe uno scacco quando il re si sposta di nuovo il cavallo rimane inchiodato. La donna vince un pedone e poi andrà a giocare donna in D6. Ma Rustamov alla ventisesima mossa va subito al punto donna in D6. E qui, praticamente, Zander abbandona. Però non andate via perché stiamo per valutare velocemente le due continuazioni più logiche. La seconda è, secondo me, importantissima perché ci insegna il modo giusto, un modo importante per sfruttare un vantaggio di questo genere. Allora, che può fare il nero con la donna sotto attacco? Se donna per donna, il pedone ricattura chi se ne importa dell'alfiere. Cavallo per l'alfiere. D7, il pedone sta per promuovere. Re in G7, torre in E8 e il pedone in ogni caso va a donna. La seconda idea è quella più interessante. Che succede se il nero sposta questa donna in E8? Vedete che qui è tutto bloccato, il re non si può muovere, la donna dove va? Questo è inchiodato su tutto e allora bisogna portare il nero quasi in Zuzmak. H4, il nero non ha buone mosse e allora bisogna stritolarlo come faceva Karpov, torre in H8, donna che cattura in F6 attacca la torre, torre in G8, di nuovo donna in D6, torre in H8 e qui l'entrata donna in C7. Torre in H6, alfiere in D7 attacca la donna e la donna si deve spostare in A8 dalle posizioni di grande vantaggio prima o poi emerge sempre il colpo tattico, colpo tattico che c'è adesso, torre per cavallo con torre per adesso intoccabile perché se re per torre l'alfiere catturando apre lo scacco di scoperta vince secco la donna e allora bisogna dare uno scacco donna in A1 con scacco, il re si sposta in H2, re per torre l'alfiere cattura in C6 scacco di scoperta, re in F8, l'alfiere cattura anche in D5 con minaccia di matto, quindi non bisogna aver paura di dare la qualità, qui c'è un vantaggio enorme, quindi scusatemi, alfiere in D5 minaccia matto, torre in F6 di sicuro più attiva che torre in H7 perché guarda anche alla casa F2, ora che bisogna fare? Il pedone passato deve andare a donna, bisogna liberare la colonna C con tempo e allora donna in B8 con scacco, mossa migliore re in G7, donna in G3 con scacco, che non si scorda anche la fase difensiva, re in F8 arriva a C6, pedone bello protetto quasi fino in fondo, donna in A6 mossa migliore, donna in B8 con scacco, re in G7, C7 il pedone promuoverà per forza, non fa paura donna in D6 con scacco, re in G1, donna che cattura l'alfiere, il bianco fa due donne, donna in D1 con scacco, re in H2, non ci sono più scacchi, Massimo ci vorrà che il nero giochi donna in D6 con scacco, donna per donna la torre ricattura, questa donna farà disastri e se non da, se non toglie una donna dalla scacchiera, gli scacchi da dietro delle donne bianche porteranno al matto, e allora grandissimo il nostro Rustam che si prende un campionato europeo nel 14, un titolo fide e si porta a 2.229 punti edo, e allora scrivetemi nei commenti se questo video vi è piaciuto, questo è un altro che mi toccherà seguire, quindi il lavoro aumenta a dismisura, ma è un grato sforzo perché io quando vedo questi giovanissimi sono sempre super contento, allora come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, aiutatemi a farlo crescere e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video, a presto! grazie a tutti! 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 grazie a tutti!